Sono oltre 50 le iniziative all'interno del calendario del Natale Terramano che è partito il 30 novembre. Quest'anno puntate sulla qualità, vero? Assolutamente, la qualità è il tratto che contraddistingue questo Natale Terramano. L'anno scorso ci eravamo concentrati sui luoghi, sulla bellezza, sull'accensione delle luci e quest'anno sarà anche così, l'8 dicembre accenderemo le luci alle ore 18 in Piazza Martri. Ma quest'anno abbiamo riempito di contenuti tutti questi luoghi meravigliosi che la nostra città ci regala. Quindi faccio un esempio banalissimo, il Bosco Incantato avrà 4 ottori professionisti che in 4 puntate racconteranno le fiamme per i più piccoli, Piazza Sant'Anna avrà 8 appuntamenti sempre dedicati ai più piccoli con spettacoli e con laboratori, Piazza Sant'Avostino avrà degli ottimi artisti Terramani che si esibiranno con musica e poi non mancherà il buon cibo in orario di aperitivo. Avete inserito in questo calendario anche diverse iniziative culturali? Assolutamente sì, l'impegno dell'assessore Core in questo Natale Terramano è stato notevole, l'abbiamo costruito insieme e quindi ci sono tantissime mostre, ci sono tantissime possibilità mostre tra l'altro che dureranno per tutto il mese e quindi i tantissimi visitatori che aspettiamo in città potranno girare la città tra mosse di fotografia, di architettura, di sculture eccetera. Quindi l'impegno è stato veramente notevole e se leggiamo il programma viene fuori proprio la qualità dell'evento. E poi il Capodanno, James Senese per la notte di Capodanno e poi per il primo Niccolò Fabi, conferma? Io non confermo nel senso che ci sarà una commissione che approverà i progetti presentati, sicuramente i nomi che si stanno facendo in questi giorni sono nomi che abbiamo valutato e sui quali abbiamo lavorato, quindi non sono voci infondate. Il primo è un grande artista, noi sul primo ci concentriamo sicuramente sui numeri che l'artista deve portare perché questo è molto molto importante e si tratta quindi di un artista che fa assolutamente grandi numeri in questo momento. Ci concentriamo però soprattutto sui contenuti dell'artista, cioè sul messaggio che può lasciare la città. Per noi questo è sempre molto importante e l'uno si caratterizza per questa tipologia.